attenzione ai nuovi limiti di velocità proprio così il nuovo decreto che ha istituito la nuova patente nautica di uno ha anche introdotto tante novità tra quei limiti di velocità e se rimani fino alla fine del video lo scopriamo insieme ok let's go ciao sono il capitano giosephe cracchiolo della scuola nautica navigando e con l'introduzione dell'articolo 91 bis dalle entrate in vigore della legge nelle acque marittime interne entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa da scogliere frangiflutto dal limite esterno delle imboccatura dei porti di approdi e di punti di ormeggio la navigazione a motore è consentita solo alla velocità massima di otto nodi mentre all'interno dei porti nonché nelle rate e nelle baie dove si trovano unità all'ancora è fatto obbligo di manovrare con massima prudenza e a velocità comunque non superiore a tre nodi chi non rispetta tale limite verrà sanzionato con una multa fino a 2066 euro previsto dall'articolo 53,6 del codice se vuoi saperne di più contattaci per una consolenza gratuita e non dimenticare di seguirci sui nostri canali social tiktok instagram e facebook per rimanere sempre aggiornato sui nostri canali sui nostri canali